Bella a tutti ragazzi, siamo i TheFriends e oggi sono qui, solo, sono Francesco, sul secondo episodio di Pokémon Marrow Merda. Allora ragazzi, abbiamo portato Entei all'8 e vabbè, i c-niente. All'8 non avevo portato i 10 perché non avevo voglia. Benissimo, andiamo avanti. Dovevamo andare verso destra, route 102, vediamo un po' che i Pokémon si trovano. Metta iPod. Da piangere. Ok, andiamo avanti. Qua. Primo allenatore. Coglioni, ora ti tocca anche combattere. Su, dai. Ehi. What the fuck? Ok. Meno uno. Vimple. Ciao. Cazzo, ma non finisce qui? Buhohohoho. E' una ruba a senato 4 e spadroneccio. Il programatore ha deciso di non cambiare la mia battuta perché secondo quelli della Game Freak questo sarebbe uno starnuto. Fafafafafaccio! Guldo! Guldo! Andiamo. Guldo deve essere mio. Zaino. Master Ball. Abbiamo un altro membro della squadra. Guldo! Guldo è stato e suorato il Pokémon Zaino del primo egeo. Un bellissimo glosso e inforterà molti trainer. Minchiaio il mio inglese, però. No. Vediamo un po', dai. Attenzione. Se appena è diventato allenatore, beh, allora ti massacro. Sta senza panzire. Vai. Forza di azione. Vai, grido di lotta. Teilo, vai convinto anche te che ti uccido. Mi piaceva vincere facile. Lugba, 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 lugba e il spadroneccio. Vediamo se li posso mettere primo guldo. Ombroghiamo. Così. Levasi dai coglioni che non vedo un cazzo. Vai a lottare, coglione. Allora. Graffica. 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 Perfetto. Sta al livello del 5. Graffica. 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 Livello 6. Ora sfoto Etiana. Continua a non vedere un cazzo. Eh, sono cazzi tuoi, bella. Ok, ora ci dovrebbe essere la prossima città che città laggiù. Intanto velocizzo io. Ok, curiamo i porchemon. Nel prossimo episodio vi farò trovare allo stesso livello di Entei, anche guldo. State tranquilli. Lo faccio off camera, però per ora primo guldo. Oh, c'è una pokeball. Tra l'altro è utilizzante Max. Lo mettete dove cazzo gli pare? Che cazzo hanno quegli alberi lì con le orecchie? Vabbè, niente. Mettiamo un po' con Market. Compriamo pozione. Tre pozioni bastano. Cosa è sta pasticca? Costa 0. Mentre le due. Caramelle rare? Cioè, tu rendimi conto di sta cosa? Aspetta un attimo. Ragazzi, ovviamente, anche se ho trovato questo, ovviamente non è che vi metto, tipo, li faccio arrivare tutti al velocento subito. No. Più o meno li tengo a livello, diciamo, della zona. Usiamo l'ultima dose di pasticche. Allora. Usiamo subito le pasticche dove stanno. Usiamo 6, 7 e 8, basta. Per primo però mettiamo sempre Guldo. E il resto dell'episodio staremo qui a specchiarci. Spero tanto che questa settimana non venga a farci visita a Tonio. Cartonio. Mamma ha detto che è cattivo. Eh, non lo so. Credo tua madre. Entriamo a casa di sto cuore qui. Pappone. Ehi, chi? Fra, non mi sembra di conoscerti. Papà, sono tuo figlio. Ah, già. Che cazzo vuoi? Non vedi che sono occupato? Devo sfidare gli allenatori che vengono. Io voglio sfidarti. Mio caro fra, tu sei troppo vecchio per queste cose. Ehi, Pappone. Sgancia un Pokémon. Pappone, tu chi sei? Ah, giusto. Jimmy, homo, knoko, knoko. Wow, hai fratellino? Sì, stai in Bumbaccia. Perché Bollicino è molto saggio. Questo non sta bene. Bollicino è bevuto, ma parecchio. Ma se pensavo a serata da mettere fuoco? Sono piccoli rinni di famiglia. Comunque voglio un Pokémon. Pappone. E quindi se ascolto Bollicino? Scusate, stavo parlando tra me e me. Fra, vai con lui a catturare un Pokémon. Ma veramente, Pappone. Ho detto vai, subito. Ehi, Jimmy, niente male la musichetta è sottofondo, vero? Sì, ma non quanto Bambuccia. Drink e Fantastic e Bambuccia. Ok, ora vado. Questo non sta bene. Al seno infinito, oltre si velocizziamo. Fra, io, porre, tu? Cammina, spacca coglione, che non sei altro. Fare ralza e lui trova ralza la prima volta. Quello che ho sempre odiato, anche da piccolo, io che lo cerco per 26 anni, arriva lui e lo trova la prima volta. Non è possibile, porco schifo. Sì, vabbè, lo sappiamo tutti. Mi scattura un Pokémon, dai. Qui non era bisogno di una certa Pokéball. Sì, bravo. Catturatura un ralzo. Ma chi cazzo ne ne ha fregato? No, la palestra. Già fatto? E dubitavi Pappone il potere di Bambuccia mi ha protetto. Ma che cazzo ha scritto questa roba? Beh, ora non mi servite più. Ci vediamo, merdacce. E tu che cazzo ci fai ancora qui? Guarda che questa sarà la tua quarta palestra. Datti una mossa. Hi, Hitler. Quindi, proseguiamo. Route 104. Sfidiamo gli allenatori. Tu non sei un allenatore perché ti muovi così. Quickmeier. Non so. Ah sì, catturiamo anche lui. Master Ball. Vai. E vai. Yes. Portiamolo a livello di tutti. Quindi, cinque. Sei. Sette. E otto. Allora faccio combattere guldo. Sexy guldo. Sexy. Sanpei, sanpei. Pescatori. Grandi. Orecchie sventola. Tu dai. No, era arrivato a cinquanta. Sì, tanti giri. Argus, ogni... Nonna su, chi ne suoi record ti vuoi? Tu appena ho rovinato tutto. Barbarotus. Mi dispiace ma questo non è un record. No, stronzo. Ora combatti. Young Slay, Bill lo vuole perdere. Vai a lottare, cojone. Faccio. Minchia. La madonna. Che scosè? Young Slay, Bill sta presa a te low. Sì che cambiavo Pokémon. E ci sbattiamo dentro in te. Che dovrebbe essere super efficace. Non mi ricordo. Ah beh, però no. Non attacchi fuoco. Quindi, ah. Vabbè, facciamo fuori subito, subito. Nove. Trasfotte Billy. Oh no. Ho la sabbia delle scarpe. E se sei in una spiaggia. Come cazzo pretendi che non abbia le sabbie delle scarpe? Cioè, ti do. Ah, questa mi sfida per caso. No. Questo... Questi li amo. Sono un riccone schifoso. Lottiamo. Va bene. Vai lottare, cojone. Rafica. Via. Così. Perché questi, allora, sprecheranno una super pozione. Beh, non l'ho usata ovviamente. Non l'ho usata. Userà una super pozione, se arriverà a poca vita, rosso. Per uno zigzagoon. Cioè, dette conto. No. Una pozione max. Insomma, qualcosa che non dovresti usare per uno zigzagoon. Ora, andiamo avanti. Speriamo che mi sto facendo stare giusta. Ok. Trovami. Meragolo. Quello per la paralisi. Dove cazzo vi pare? Chiesto qui. Mi sembra di vedere un gatto. Eh. Ma flutti. Ehi, tu. Hai mica visto un gatto? Sai, mi sembra di vederlo, ma... Ah, ah, ah. Sono un seguoci di Tonio per Tonio. Voi non fermate... Non ferm... Voi non fermerete la melevisione. E non troverete mai il loro capo. Tu, con la faccia da scemo, mollami subito i documenti. I documenti importanti. No, i documenti importanti? No, loro sono troppo importanti. Se lì vi è piaciuto la scelta di likes e le documentate... Non sto scherzando, ovviamente. Però, questa battuta... Cioè, cazzarola. Cosa, un vecchio che mette a usare in torricciarmi? Veramente? Io non l'ho mai detto. Cattivo. Infatti avresti dovuto dirlo. Era la tua battuta. Guarda, c'è scritto anche sul copione. Ah, scusatemi. Beh, dai, rifacciamo un'altra. Ma sei un cazzone. Chi ti ha assunto? Vabbè, combattete. Vediamo. Guldo, raffica. Guldo, sei tutti noi? E Pucigliena è andato K.O. Livello 10 per Guldo. Oh no, Tony sarà Berano. Ruba e spadronaggio. Cazzo, mi ha sconfitto. Bagiano, ora sarò costretto a darmi la gambe. Guldo, ti ringrazio, non mi hanno rubato importantissimi documenti importanti. Se avete piaciuto la scelta o le descrizioni, c'è una persona di due bella ragazza. No, sto scherzando, ovviamente. Importantissimi documenti, perché... Come premio ti regalo un bacino di gioia. Smek. Rank riceve. Megaball. Oh yeah. Framette Megaball, da cazzo mi pare. Comunque, parlando di cose serie, chi è questo Tony Cartonio? Sarà un tizio. Corco cane, è tardi, devo andare, altrimenti la regina di cuore mi taglierà la testa. Ora, vediamo un attimo una cosa. 10, 9, mettiamo prima Entei. Ehi tu, hai mai visto Tony Cartonio? Alcuni credono sia solo una leggenda. Beh, non lo è. Ti stupi, no. Lui. Lui è il prossimo. Lui sarà mio. La potenza di Super Mario. Vai, Mario è stato catturato. Mario è stato di sbocco. Rattata. Rattata? Rattata? Non me ne frega niente, io Super Mario è un grande, quindi io me la tengo. Lo porto al 9. Attacco rapido. Muoviti. Hater, buono. PP. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, senti caretta pulita che hai tirato queste parti. Fra ricevetti a mezz'ora nove a caso. Dove cazzo mi pare? Cos'è? Boh, non si sa. Tu. Forza. Ciao bella ragazzone. Dici di una sveltina? Eh grazie. Un attimo ragazzi. E rieccoci tornati ragazzi. Facciamo subito subito. Ma proprio subito subito. Vedete? Vedete? Non lo spreco. Perché si bugga tutto poi? Tu attrezzo funziona? Ok, un attimo sarà buggato completamente. Perfetto. You're a cause world a me. Mortage the tia. Vai, incontro il te. Lo dood. Ma intanto uccido anche te. Siamo troppo problemi. Eh. Eh. Forse non esatto. Vabbè, vinto lo stesso. Noi, bracene. Non mi ho fatto imparami. Raccomando, se no mi ho finito. Non ci sono le cemelle più. C'è il pescatore. Non c'è la vecchietta. Monopoli. Fantasia. Portami via. Lo pigliamo qualcosa di goglia. Ok. Ok. Nivello 10, quindi va bene. Quagmire, Romario? Quagmire. Assolutamente. Come si fa a non amare Quagmire? Io mi chiedo. Ma perché lui, porca di quella ampotrella? Vabbè. Mmm. Basta, spese pro-market non ci servono più. Iba in casa di taglio. Andiamo a vedere se è tutto dizio. E ciu 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 ciu. Dai, attacca te. No, te. Dai, te. Dai, tu. Detto tu. E tu che cazzo è? Non vedi che sto al telefono? Prendi questo e levati dai coglioni. Riceve HM01. Ok, taglio. E si leva dai coglioni. Mmm. Perfetto. Vamos avanti. Yo, blue, zio, fra. Ok, qui c'è una palestra a fare, vero? E so anche di chi è. E non sarà affatto, ma proprio affatto, semplice mai. Nalto l'alzo d'ore. Di qui non passi. Io affronterò tutti i allenatori. Ah, perfetto. Grande Rookmeier. Vai di prepotenza col Polneve. Livello 9. Jedwed, ma chi se ne frega. Vai di Polneve. Prossimo, vai, anche tu. Polneve, ma cosa volete fare contro il Polneve? Porco schifo. Super Mario. Confido in te. Oh, meno male che è finita. Marron, che cazzo facciamo? Porco dei collatro, io amo me e facciamo. Ok. Ora. Hello, sono Pugge, non mi conosci? Sono molto famoso da queste parti, non mi fare. Mi conosco come quel porco col mono sopracciglio. I Pokémon obesi sono i miei preferiti. Sei pronto a perire sotto 300 kg di ciccia? Ah, ce l'ho, cazzo. Sì, dai. Oddio. Abbiamo perso. Non si può vincere contro Snorlax. Buldo. Grafica. Noi gli facciamo anche niente. Le rocce tomba ci ammazza. Sto punto vai di turbosabbia. Tanto non possiamo sopravvivere. Vai Mario. Che cacchio vuoi fare tu? Attacco rapido. Ci uccide pure Mario. Ventei. Vabbè, resisto un po' perché leggendario lo cura. Ehi, c'è però. Così troppo facile. Insomma. Vai, a sberle tutti. Scusate, ma ho vinto io e tu no. Papà, però. Tu non puoi capire, vecchio. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Dunque, mi dice che cosa? Dicevo le due ette a mezzo di progiutto impiastrato col pelo del mono sopracciglio di Gucci. Schifus. Questo progiutto è che non si tratta di accedere alla Sega Pokémon. Sega Pokémon. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi. Commentate e noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi. No, sto scherzando assolutamente. Tiè, ma cosa mettiamo? Ma la puoi buttare nella rumenta? Sono tanto avveso che non passo dalle porte. Ma botta, una affa, un culo, va. Ehi, vecchio, via dalle palle. Aspetta, tu non lo sai, ma sono il Principe Giglio. Se il video vi è piaciuto lasciato un like, iscrivetevi, commentate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Grazie. Grazie a tutti.